Questo è l'oceano, dove in città andiamo a Abrabu, facevo ogni giorno il bagno con i suoi devoti. Ogni giorno? Grupa con Svami, Aridastacore, Salatana con Svami, giornata c'era. Vuotavano? Vuotavano nel mare. Dopo il Kirtan, che era amato quella sera, veniva qui e non facevano le due devoti. E spesso e volentieri, guardando le onde, in questo cielo, la città di Amabrabu, ricordava lo Yamuna, che si buttava dentro, ricordando i passatelli di mattina da ragna e ricorda. Ragna Amabrabu, chi? Già arrivato! Guarda gli indiani che fanno qua. So, later we go to do some swimming.